Dunisiani oggi faremo uno scherzo al nostro amico, ad un nostro amico qua sulla chat sul nostro server, Antonix109 è anche denominato sasso nei video di Among Us Esatto, noi tutti quanti conosciamo bene, comunque ragazzi seguitemi qua perché adesso dobbiamo, noi se vedete qua abbiamo in mano le pozioni dell'invisibilità E dobbiamo stare attentissimi, ma proprio magica, ma più che ti fa cose, intrufoliamoci qua in questo passaggio, qua non ci dovrebbe vedere Ok, shiftati, 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 ok state shiftati e tranquilli No, hai preso la mia pozione Dennis No, non è che l'ho presa, sei tu che sei deficiente, comunque È sbagliato E buttiamo via, ok, perfetto Adesso tipiamoci da lui perché non sappiamo chiaramente dov'è, quindi Ok Antonix No, raga, 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 attenti, attenti perché Allora, Gabri praticamente è un furbo della madonna Perché praticamente gli ha fatto togliere le particelle della pozione dell'invisibilità Però non corriamo, non corriamo Non correte, cretini di... No, 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 raga, raga, no, 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 ha capito, ha già capito praticamente No Dai, no Oddio qualcuno ha pensato nelle cose Oppure, o non le ha tolte, o... no, 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 raga, si ha capito No, eh, non ha capito Mi arrabbio, eh, mi arrabbio Cioè, guardate che ha tutto sospetto che si sta girando Può darsi che forse non abbia capito No, raga, io mi sto chiedendo cosa stia succedendo perché sinceramente non so Ma lui ci vede Non lo so perché guarda verso di noi Non credo, ma cosa sta facendo? Sta picchiando l'aria, sta picchiando l'aria, attenzione Ma Gabri, tu sei sicuro? E lei ha detto che è su off la cosa delle particelle Mi sembra strano, eh, mi sembra strano Anche perché ci sta, tipo, quasi vedendo Ma forse sta sentendo i suoni di noi che camminiamo Eh, no, potrebbe, il mio strumento è... Shiftiamo, shiftiamo Andiamo indietro shiftando, esatto Shiftiamo E non corriamo, eh, perché se corriamo si vedono le particelle sotto È la fine Esatto, esatto Purtroppo, esatto Quindi, ma perché guardatelo, sta continuando Si vede che è proprio i ragazzi che sta cercando di capire cosa sta succedendo Ma non si, non riesce a capire Probabilmente Ma forse anche perché l'abbiamo spinto, tipo, venti volte, eh Può essere tipandoci da lui Tipandoci pure Infatti Ma non è che magari ci ha visto dalla sua casa Può darsi, eh No, da così lontano non vede No, eh Secondo me lui sta sospettando qualcosa, comunque Ma, ma, comunque non sta dicendo niente Guardalo, guardatelo, è là, è là, è là Ok, adesso facciamogli passare il sospetto, Duniziani Poi dopo Inizieremo a fargli degli scherzetti, eh È bellissimo Quando facciamo gli scherzetti Attenzione Mi sembra strano No, 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 raga, raga, raga Sta, sta Stando le spadate Ma perché? Perché lo sta facendo? È deficiente Perché lo sta facendo? Perché, guardatelo, perché lo sta facendo? Cioè, allora, non sto capendo Perché vuol dire che ha già capito che c'è qualcosa di strano Ma, non Cioè, non capisco perché reagisce spadando a caso Capito? Perché pensa che siamo in invisibilità, forse Eh, allora, ha già capito Mi sembra strano, però Teniamo sotto controllo il tempo dell'invisibilità Stiamo a cinque minuti e mezzo Ok, Gabri, tu sei incaricato a fare ciò Ok, intanto Vedete dove sto correndo? Vedete, vedete Sì Al santuario, perfetto Sì, tappeto al santuario Esatto, brava Allora Arrivo, arrivo Dove è andato? Porca miseria, raga Dentro Dentro? Sei sicura? Sei sicura? Eh, sembra di averlo visto dentro, non lo so No, 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 ma non ha nemmeno aperto la porta No, non è dentro, non è dentro Oh, no, no, non è dentro Allora, in teoria O è andato qua da questa parte È solo che se noi adesso, tipo Come dire Ci tipiamo di nuovo da lui È la fine È Può essere che Infatti Perché noi lo spingiamo, donisiani, capite? Questa è la cosa strana Cos'è stato il suo rumore? Porca miseria Non lo so, sarà caduto qualcosa? Sì, è caduto il cervello di Gabrile E il mente per terra Sì, infatti È fatto di legno per questo, per il rumore Eh, esatto Che schifo No, comunque dove, caspita, è Anto Mi sto innervosendo, caro Anto Dove è finito l'Antoniellolo? Eh? Antonixolo? Ma dov'è? Dove è finito? Provati parti solo tu prima Esatto E poi in casa noi ci tipiamo da te Allora Oh, porca miseria Forse Forse Ok, ok, ok Tipatevi perché sta correndo Ok, perfetto Anzi, sì, esatto Tipati da me, ok Tipati da me Da te, esatto Eh, esatto Allora, lo vedete, è qua Non corriamo, non corriamo Non corriamo, tanto non è che si gira Però dove sta andando, raga? E dove va? Infatti Adesso non correte, non correte Non corriamo, non corriamo Ok, ok, vedete Bene, bene, bene Stiamo andando bene, stiamo andando bene Noi dobbiamo spiare E allo stesso tempo fai gli scherzetti Di un'idea Ma prima spiamolo Perché io sinceramente Non so cosa fa sul mio server vanilla Io sono davvero curioso Magari ha un posto segreto Vero, può essere Ma cosa sta facendo? Dov'è? No, eh, scusate Non deve far rumore comunque Eh, ok, sta scavando un albero Ma perché? No, no, no Non è normale Ma poi perché è andato lontano Ma infatti Questo albero qua Ma che caspita sta facendo? Ma hai detto No, raga Non me lo spiego A parte sta facendo un casino Con queste fronde Mannaggia a lui Sì, esatto Ma, ma, perca misera Adesso faccio slash kill Due disegni E uccido proprio Pure l'ender dragon Uccido con slash kill Vedrai Eh, esatto No, poi alla fine Chi lo uccide? Eh, dobbiamo anche ucciderlo In questi giorni comunque Esatto Non mi sto dicendo niente Gabri, 3 minuti e 33 Di invisibilità intanto Esatto 3 minuti e 33 Allora Sta continuando a rompere le fronde No, raga Dobbiamo fare qualcosa Però è una cosa buona Vedi, non lascio gli alberi a metà Eh, è vero E vabbè, ma questi cadono da soli No, cosa sta facendo? Però, molto bravo Comunque, se volete entrare Anche voi due disegni Nel nostro server vanilla Dovete avere Minecraft Prima di tutto Dovete avere Minecraft Java Edition Per computer E venire sul nostro server Discord Che lo trovate qua sotto In descrizione su Discord, no? Esatto Presente, eh? Oh, porca misera Adesso io muoio Attenzione al danno Eh, esatto Eh, esatto Perché non abbiamo l'armatura Anche perché si sente Poi qua abbiamo fatto un TikTok una volta Quindi è rimasto così È vero Vabbè, qua Io veramente non so dove sta correndo Io sono troppo curioso 2 minuti e 50 Ok, ok Io mangio Mangi? Cosa mangi? Infatti, cosa mangi? Ho mangiato una patata Ma non ha sentito Eh, cioè Per fortuna Meno male Forse avrà Quello ti ha visto Ma infatti no Mi sembra strano Che ci stia cascando, eh Eh, infatti Troppo strano Intanto voi vi state tippando Perché chiaramente Eh, perché non sappiamo dove Non ti vediamo, quindi Eh, cercate di seguire Oh, porca No, no, no Qua lo stiamo perdendo Pian piano Perché lui sta tipo Facendo il parkour Perché sta andando avanti e indietro? No, allora Dobbiamo Una patata addosso Beh No, non ha visto Porca miseria Non ha visto Eh, perché l'ho presa Dai, porca miseria Dove, dove sta andando? Aspetta Attenti Le particelle, le particelle Oh, porca miseria Oh, porca miseria Dunisiani, esatto Allora Ma sta morendo Dai, mannaggia lui Ma io Io lo sto odiando Dunisiani Lo sto odiando No Con tutte le mie speranze Di cavallo Hai una patata in mano Ma sta tornando a casa sua Sì E continua ad essere deficiente Come al solito No, non è possibile Attenzione Dunisiani mi ha visto Un minuto e 35 Dunisiani mi ha visto Scappiamo 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 Non fatevi vedere Non fatevi vedere Dove, dove sei Danis? Eh, vicino a casa sua Vicino a casa sua Allora, beviamo un'altra pozione Beviamo, beviamo Esatto Però stiamo attenti Non stiamo vicini a lui Allora, ragazze Questo è lo scherzo del secolo Tipo Sì, esatto Anche perché Lui ha visto una patata Che camminava Guardatelo quanto è stupida Sì, esatto Se stai guardando questo video Anto ti vogliamo bene Lo so che stai guardando Eh, ma sicuro lo sta guardando Eh, beh, ma lui che Guardatelo là Come si gira Come si è spettoso Anche perché io Sinceramente Mi spaventerei molto Se vedessi una patata Che vola Sì, io anche Beh, una patata Che vola E poi Se Oh, Chiara Non è servo Però, eh Cioè, scusami un po', eh No, no Adesso è una patata Che vola Chi non si stupirebbe Scusa Mamma mia Che microfono di qualità Comunque Esatto, vero Mamma mia È di un paese bellissimo Eh, immagino Di che paese è? Non voglio saperlo, guarda No, no Non te lo dico Guarda perché Ti stupiresti troppo Ah, davvero Esatto Attenzione Guardate che qua Praticamente Qua dobbiamo stare Super attenti Secondo me Lui pensa Che questa zona È tipo maledetta Perché praticamente Continua a succedere Gli cose in questa zona qua Eh, si tipo Gli ha sparito il piccolo No, no, no Cosa sta facendo? Oddio Ti ha picchiato? Io sono tipo Una strega cattiva Guardate Oddio Dio, vicino a me Vicino a me Aiuto Anche vicino a me Raga, raga, raga Cioè, top Questo scherzo top Sì, vero Io lo sto amando Dobbiamo continuare A fare gli scherzi È scemo Guardate Dagli un pugno Esatto Pugno Via 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 Guardatelo Guardatelo lì Ma lui non sta scrivendo niente in chat Eh, perché ha paura, no? Ha paura che mentre registra Perché lui non sa Che mentre registriamo Cioè, lui sa che mentre registriamo Non deve scrivere Quindi Esatto Se lui scrive Dice Qua c'è qualcosa Adere che non Come se non l'avessi capito Come se non l'avessi capito Ok, tu scrivi lì Ma cosa? Cioè, di Ma cosa? Ma che cosa sta dicendo? Cioè, non è possibile Maga Cioè, allora Adesso io mi arrabbio Tipo, faccio finta di arrabbiarmi con lui Anto, perdonami per questa cosa Eh, porca Allora Anto Mi fidavo Ho detto Ho detto di non scrivere Porca miseria Povero Ma dai Ma dai Ti devo mutare? Perché sapete che adesso C'è la nuova funzionalità Che possiamo mutare Eh, è stato troppo comodo Cioè, veramente Ma scusate Duniziano è proprio un deficiente Immenso Colossale Vero Come si permette di scrivere Durante i video di Duniz Adesso 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 Sei fuori Slash kick Adesso ho paura che Però poi dopo magari non entra No, no Non lo chiccare Adesso si caga Adesso si caga però Ah no Adesso Adesso descrivo normalmente Cosa Cosa Hai visto Hai visto No, perché Ragazzi dovevano capire Dovevano capire No, perché sinceramente Secondo me Questo altro è tutto scemo E noi non abbiamo visto niente Adesso Io Allora Però voi vi siete addormentati Come al solito No No, siamo vivissimi No, non ci siamo addormentati E quando non dormite Quando non dormite Però vedo che È Capite Cioè, vedo che parlate insieme Sì che sta uscendo da casa Vedo volare E picchio il niente Ah Picchia il niente E le patate volare Ma Ma te sei fuori Cioè, veramente Cioè, non io Veramente Questo è un deficiente Ma sì Abbastanza Perché picchi Il niente Cioè, veramente Ragazzi Allora, però Scusate Mentre io parlo Potete almeno parlare voi Cioè, mentre non parlo io Potete parlare voi Perché Eh sì, sì Parliamo Parliamo Mi sembra una cosa giusta Eh, grazie al cavolo Chiara Ma perché ogni volta Dobbiamo Dobbiamo sempre fare Sti discorsi Ma cioè, è difficile Parlare? Eh no Perché magari è difficile Abbastanza Io devo controllare un attimo Qua su Una cosa Ho controllato Dunitendi Perché Eh Attenzione E vede e sento passi Vede e sento passi Vede passi Eh E li sente E sente Ma scusate A vederli In effetti Guarda un attimo Adesso gli lancio Una patata addosso Pem Oddio Ma c'è io Veramente Questo qua è scemo Ah Saranno I nuovi Mob Aggiunti Nella Nella 1 164 164 Infatti Perché noi abbiamo Come si chiamano Questi mob Dennis No come si chiamano Fasmomob 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 Fatatamob Fatatamob Mettetamob No perché È Emma Cosa vuole Adesso adesso non ci crede Volete vedere Se non ci crede Io lo faccio 3 minuti e 24 Siamo eh Stiamo attenti Ok bravo Ok Ha detto Sicuro Sì sì Non ci sta credendo Anche noi Li abbiamo No Non è possibile Cioè Rompe le scatze Questo tanto però Dai Deve essere Deve essere un po' più stupido Donisiani Dovete Rendetelo stupido Un po' Ma infatti Prendeteli quel cervello Gian Gianni Sto parlando con te Porca miseria Devi renderlo stupido E niente Non è stupido È colpa tua Gian Gianni Se non è stupido Lo sai vero Perché non hai messo Ma chi è sto Gian Gianni Ma infatti Che deve rovinare tutto Esatto Marco Marco sto parlando Pure con te Soprattutto con te Porca miseria Poi dopo va a finire male Vabbè insomma Adesso però Si va così eh Guarda Guarda Stupido Adesso Porca di quella miseria Eh Non mi fa da volare Eh esatto Io lo sto Letteralmente odiando Oh caspita Cosa è successo Cosa è successo Ragà 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 Sto attirando una freccia È scemo È scemo È scemo Perché Abbiamo comunque Possiamo avere la god Possiamo avere la god mod Esatto Adesso se ci picchia Se ci picchia Fate slash god Non ci ho pensato Ma se ci picchia Se ci picchia Non può picchiarci praticamente No Guardate Adesso Ah Mannaggia lui Eh esatto Vedi Oddio che bello E non possiamo fare niente Ma quindi Adoro Abbiamo due minuti Se ci picchia Non succede niente Esatto esatto E possiamo anche fare slash fly Eh ma senti Senti il rumore Senti il rumore Che picchia Senti il rumore Che picchia niente Aiuto Eh va bene Ma è normale No non ti preoccupare Chia non ti preoccupare Poi puoi fare slash fly Comunque Siamo a un minuto e 45 Conviene Bere la porzione Porca miseria Questo qua Adesso gli droppo le patate Guardate Io vado a bere Sopra la casa Beh ma adesso No dai la patata Devi prendere la patata Mannaggia lui E alle sue cappette Eh Mannaggia Alle cappette di Anta Cosa vuole Non so se interrompo Ma dovremmo bere Eh io ho appena bevuto Oh porca miseria davvero Sì ho appena bevuto Un minuto e 21 Ma cosa stai Dicendo Vabbè io bevo qua Tranquilli Ma perché poi Poi tanto noi possiamo volare Ok Esatto Ultima ampolla Adesso sta per finire il tempo Tunisiani Guardate che manca poco eh Manca poco Vediamo un attimo Se ci crede oppure no Guardatelo che scemo Secondo me non ci crede troppo Però Esatto È tutto shiftato Sì sì Ma secondo me Allora Secondo me si sta un pochino spaventando Eh esatto Eh secondo me si Mettetegli tipo dei cartelli Tipo Dei cartelli Sì devo prendere un cartello qua da casa mia Aspetta te un attimo Che sto andando a farlo proprio in questo momento preciso Perché Duni sei bravo e sa tutto lui Come fare Come fare Beh diciamo dai Cioè Allora 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 Tu non puoi pendere in giro in questo modo Comunque adesso Duni spero sa come far spaventare Anto Dovete sapere Che modo Che Anto No non posso dirlo qua Però Perché sennò è diffusione La cosa è brutta Eh Cioè Poverino poi Esatto Una brutta figura poi Però posso fare Ah Quali sono i punti deboli di Anto Porca miseria Dovemmo pensarci Eh non lo so Il punto deboli Eh Tokyo Ghoul Beh tu sei un Tokyo Ghoul Però brutto Uno di quelli da un po' deformi No Un pochino stupidino Eh un pochino Senza Boh Senza Boh Non lo so Senza qualcosa Ah No aspetta così Più Tipo Dunisiani Cosa gli devo scrivere Sei il violama tu Sei Sì grazie Dai No tu Noioso Eh grazie Io sono il violama E allora sei una pancetta Non lo so Una pancetta Ma perché Cioè come ti permetti Cioè go E comunque state svegli Perché sennò poi dopo Dono i sindaco Sì sì siamo svegli Siamo svegli Siamo sveglissimi Non svegli Esatto Morte Non hai visto niente Non hai visto niente Ah non hai visto ancora niente Dunisiani è stupido No vabbè L'ho messo pure io Morte Nei polli Nei polli Sì nei polli Nei polli No gli mettiamo l'acqua qua No porca miseria Ai polli No Oddio L'acqua nei polli Il cartello nei polli Morte Aspetta qua 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 Ok Pem L'ho morta nei polli No Dunisiani Adesso gli mettiamo la lava Sotto il sedere Poi dopo Sì sì mettiamo Completamente proprio Cosa Secondo voi sta ancora scrivendo Aspetta Gabri Scrivi tu Abbiamo finito Vediamo cosa dice Vediamo cosa dice Abbiamo finito Esatto Vediamo un attimo Vediamo se ci credo Oppure no Dunisiani Perché se non ci crede Poi dopo Dunis Si innervosisce tanto Eh Proprio per non dire Emma Vediamo un attimo Cosa Sentiamo cosa dice Vediamo Perché io Adesso voglio capire Dunisiani Siete molto sgamabili Ah grazie No Digli che Ma in che senso Cioè veramente Cosa stai dicendo Anto Certo sei fuori di testa Ma che cosa Cioè Sei fuori Per caso Cioè Sentiamo un attimo Mannaglia da Anto Però eh Esatto Non ci credo Cioè io non lo so Come fa essere una persona Così stupida Non crederci Ma infatti No non ho parole Ma infatti Cioè Anto Oh Oh Mi stai guardando qua negli occhi Sai con chi sto parlando adesso Sto parlando con Anto Adesso faccio slash kick Allora Primo Ed ultimo Avvertimento Primo ed ultimo Se non la smetti Sei un sasso Vabbè Quello non è già Vai State zitti tutti E vai a quel paese Anto Vabbè Vabbè Vabbè